Salve a tutti i giocatori e benvenuti nel nostro nuovo video Oggi andiamo a vedere due nuovi supporti Splite Ho portato un po' in ritardo sia perchè non sto benissimo e sia perchè sto preparando per tornare a casa Quindi un pochino in ritardo Prima di iniziare come sempre vi invito a scrivere il nostro canale di passare in descrizione per rimanere sempre aggiornati con il mondo Yugi Grazie mille E andiamo a vedere questi due nuovi supporti molto molto interessanti Allora andiamo a vedere il primo che è un mostro link Link 2 Due mostri inclusi, un mostro livello 2 oppure rank 2 oppure link 2 Possiamo attivare il primo e il secondo effetto una volta per turno Se viene invogata link possiamo mandare un mostro livello 2 dal deck al cimitero Quindi molto molto buono Fa un po' da gerubini quindi non mazzo come Splite Oppure i mazzi che usufruiscono i mostri livello 2 potrebbe essere una carta combo abbastanza buona Quindi molto 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 ottimo Non si può sentire però molto molto ottimo Se un altro mostro viene evocato specialmente Mentre non togliamo questo mostro sul terreno Stacchiamo un materiale che un mostro che esiste Targettiamo un mostro sul terreno e lo rimbalziamo in mano Quindi potrebbe essere anche una carta difensiva Che potrebbe essere un'ottima interruzione Ma comunque ovviamente la parte buona è il macinare dal mazzo 1 livello 2 La trappola Splite Double Cross Targettiamo un mostro sul terreno e lo cimitero per attivare uno dei seguenti effetti Quindi attacchiamo un mostro di rank 2 come materiale Se l'avversario Ah se l'avversario lo controlla invece Ok se è una carta l'avversario controlla Piazziamo nella nostra zona un mostro link 2 E poi gli prendiamo il controllo Quindi mettiamo un mostro link 2 E dove punta Gli prendiamo il controllo Se questa carta è al cimitero Possiamo specialare in una nostra zona mostro Se questa carta è al cimitero Possiamo specialare in una tua zona Un link 2 Che lo punta Mi sono un attimo ricoglionito con questa carta Scusate è la febbrecità Quindi spiegatela bene Mi chiedo scusa Detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video Scusate ancora E niente Un saluto a tutti